Uno, parto solo dal titolo, il riservo e la scrittura, sono un po' le due cifre dei due atteggiamenti fondamentali, dei due protagonisti fondamentali che sono Katia e Luigi Meneghello. Non possiamo dire che il riservo sia di Katia e la scrittura di Meneghello, in fondo il riservo è anche di Meneghello e la scrittura è anche di Katia. Sono due persone che hanno vissuto in osmosi e hanno vissuto in osmosi anche questa terribile esperienza. Certo poi la responsabilità ultima della scrittura e l'intensità ultima della scrittura di Meneghello si traduce in una scrittura civile e dunque gli articoli di comunità e poi promemoria, ma alla base credo ci sia anche sempre questa sincerità, questa profondità, questa verità dell'esperienza personale e cioè la radice del riservo che è trattenuta e maturata nel tempo.